Nelle ultime 24 ore la provincia di Arezzo non registra alcun nuovo caso di covid-19 ma il tema della pandemia continua comunque a far preoccupare non tanto per i contagi che di per sé sono effettivamente sporadici quanto per la particolarità di alcuni casi come pazienti prima negativizzati e poi tornati positivi o il 70enne a retino costretto a casa da alcuni mesi, risultato sempre positivo ai tamponi a cui è stato sottoposto. Di questo ne abbiamo parlato con il dottor Danilo Tacconi primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. Una paziente per lunghi mesi all'interno prima di una struttura poi della sua abitazione insomma ci sono dei casi con una lunga decenza? Sì devo dire che non sono frequenti però è possibile che la persistenza della positività del tampone naso faringeo faccia sì che queste persone vengano sottoposte diciamo a dei momenti di restrizione quindi di isolamento domiciliare o presso degli ambienti, vedi l'albergo sanitario piuttosto che da altre parti perché in effetti ancora non abbiamo la certezza assoluta che queste persone non siano contagiose. In realtà devo dire che degli studi preliminari ci sono che ci dicono che dopo tanto tempo che una persona ha acquisito un'infezione da coronavirus la presenza del genoma nel tampone non corrisponde nella maggior parte delle volte a una contagiosità e quindi alla presenza di virus vitale tant'è che sono state fatte per esempio delle colture di questi tamponi che non hanno evidenziato la crescita del virus quindi questo farebbe ben sperare che questi signori non sono contagiosi però ancora non abbiamo delle evidenze forti e dei numeri così importanti tali da poter sostenere questa cosa e poter dire che possono uscire di casa e fare le cose che possono fare tutte le persone negative al tampone. I ricercatori di tutto il mondo dall'Italia agli Stati Uniti passando per l'Inghilterra e lo Stato di Israele intanto stanno correndo contro il tempo per cercare di mettere a punto il vaccino anti-covid. Devo dire che il vaccino ancora diciamo in una fase di studio di ricerca sono state fatte alcune somministrazioni su volontari sani. I percorsi per l'istituzione e la ricerca dei vaccini generalmente impiegano un paio d'anni per cui pur avendo dei percorsi sicuramente molto più rapidi in questa situazione perché sappiamo che è assolutamente importante trovare un vaccino per questo virus sia per salvare le vite umane ma anche perché comunque c'è una questione economica assolutamente importante visto quello che stiamo pagando non solo in termini in salute ma anche in termini economici e quindi ipotizziamo che sicuramente i tempi saranno molto più rapidi rispetto all'istituzione di altri vaccini come nel passato ma tali da probabilmente non riuscire ad avere il vaccino prima del 2021. E in attesa del vaccino è sempre il dottor Danilo Tacconi a spiegarci cosa si può fare. I consigli rimangono esoliti e ripetitivi ma devo dire non inutili nel senso che comunque quando ci approcciamo a delle persone utilizzare la mascherina è assolutamente importante il lavaggio delle mani o l'igiene delle mani anche quello sappiamo che è importante non portarsi comunque le mani alla bocca agli occhi al naso perché involontariamente potremmo aver diciamo contaminato le nostre mani senza aver fatto il lavaggio o l'igiene delle mani e quindi potenzialmente contaminarci. L'altro aspetto è quello relativo andando verso l'inverno della vaccinazione antinfluenzale. Uno penserà ma cosa c'entra il vaccino antinfluenzale nei confronti del coronavirus? Sicuramente noi sappiamo dell'importanza del vaccino antinfluenzale già prima del coronavirus e ribadisco che è importante non solo per le categorie a rischio quindi i pazienti che hanno delle comorbidità ma anche per i quei lavoratori che fanno dei lavori pubblici essenziali per cui dobbiamo mantenere che il sistema funzioni e anche devo dire per i giovani perché a questo punto avere una protezione nei confronti dell'influenza non è che ci protegge dal coronavirus ma sicuramente ci aiuta a eliminare almeno un'infezione che assomiglia comunque dal punto di vista dei sintomi e talvolta anche delle complicanze al coronavirus.